3 giugno 2022, Teletruria cambia e va verso una nuova sfida. Allora, direttore? Sì, da oggi siamo visibili in tutta la Toscana, diventiamo a tutti gli effetti una rete regionale, abbiamo il numero 16 del telecomando, cioè siamo nella fascia tra il 10 e il 19 che sono gli LCN attribuiti alle emittenti locali che hanno avuto maggior punteggio, quindi siamo rientrate fra questi e anche questo è un motivo di grande soddisfazione ed è chiaramente una sfida nuova, una sfida in più, un modo anche per consolidare il rapporto che abbiamo con i nostri telespettatori e per conquistarne di nuovi, visto che, come detto, ci vedrà anche chi finora non ci vedeva, ci vedranno ad esempio gli aretini che vanno in vacanza sulla costa e potranno continuare a seguirci anche durante le loro vacanze e dal 7 giugno saremo visibili anche in tutta l'Umbria sul canale 88 e quindi è chiaramente sì, una grande sfida. Un lavoro di staff? Sì, intanto tutto bisogna ringraziare ovviamente l'editore che con la sua volontà ha consentito questo ulteriore salto di qualità, l'amministratore delegato Paolo Dottori, tutto il nostro staff tecnico che ha lavorato davvero in maniera eccezionale per arrivare a questo momento di passaggio prontissimi. Noi lo siamo stati fin dal primo passaggio che è avvenuto in provincia di Massa nei giorni scorsi, siamo stati immediatamente visibili, quindi devo fare anche complimenti a tutti i nostri tecnici per questo. Cambiamenti nella programmazione? Nell'immediato facciamoci conoscere da chi finora non ci conosceva per quello che siamo, c'è un'emittente radicata nel territorio, attenta ai contenuti, che fa una programmazione vera, c'è una programmazione fatta di trasmissioni, di approfondimenti, di avvenimenti sportivi, non di vendite insomma, perché poi questo ovviamente girando con il telecomando tutti i telespettatori potranno fare anche un raffronto, perché è vero anche il contrario, cioè anche gli aretini potranno vedere televisioni che fino ad oggi non vedevano e quindi questo sarà un modo anche per stare in questo mondo, in prospettiva ovviamente qualche cambiamento ci sarà per aprirci sempre di più ad una platea così vasta come quella che copriamo con il nostro segnale. Quindi Teletruria da oggi è sul 16, un saluto per i nostri telespettatori, un appello? Sì vabbè, un appello a quelli che ci hanno sempre seguito, a continuare a farlo anche nella nuova numerazione del canale, ma su questo non ho molti dubbi anche perché stiamo andando verso la giostra del Saraceno e quindi sicuramente tutti ci cercheranno anche per seguire questo grande appuntamento e anche invece un saluto a tutti quelli che non ci avevano mai visto e che impareranno a conoscerci. Allora buon lavoro a noi! Esatto!